Bleeding love Leona Lewis su R vediamo un po' cosa c'è in tendenza su Twitter. Allora c'è in tendenza Boldi, Massimo Boldi. Sotto il post di Giorgia Meloni, il presidente Berlusconi lui ha scritto adesso tocca a te. Quindi tutti hanno pensato adesso tocca a te perché gli sta augurando la morte. In realtà adesso tocca a te guidare il paese. In realtà quello era il senso. Perché c'è la politica di Berlusconi che molti si contengono. Ma ovviamente è successo di tutto. Lutto. Riferito a Francesca Pascale che ha rilasciato dichiarazioni e ha ricordato anche lei. RDS e il comune di Messina presentano la mossa di Messina.